Per quanto tempo hai intenzione di restare lì dentro? Sei uno di loro? No, io lavoro da solo. Da solo? Sei anche tu un otaku? Avanti, esci. Non possiamo restare qui in eterno. La tua uniforme è diversa dalla loro. Sei l'ingegnere capo del Metal Gear, Hal Emerich, giusto? Come fai a conoscermi? Meryl mi ha parlato di te. Oh, allora...